La sentenza impugnata è stata confermata e dunque anche l'azzeramento di un decreto ingiuntivo di oltre 337.000 euro originariamente disposto a carico del Comune di Capodorlando. Da qui è stato rigettato l'appello di International Factors Italia Spa condannando la società a pagare le spese del giudizio per 12.000 euro. Il verdetto è stato pronunciato il 6 luglio scorso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Roma, Presidente Maria Rosaria Badetta, Consiglieri Elena Fulgenzi e Gianluca Mauro Pellegrini. Il Comune Paladino, rappresentato dall'Avvocato Natale Bonfiglio, aveva proposto posizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, emesso a favore della International Factors Italia Spa, rappresentata dall'Avvocato Guido Ninni. Oltre ad evidenziare l'incompendenza territoriale, nel merito l'Avvocato Bonfiglio aveva eccepito l'insustistenza della prova scritta del credito, mancando dunque il requisito della formalità necessaria ai fini della validità e perciò la nullità dei contratti di fornitura elettrica. La società ricorrente aveva contestato sia l'incompetenza territoriale quanto l'eccezione di nullità dei contratti di fornitura, essendo stati conclusi a trattativa privata attraverso la consegna di corrispondenza. Il Tribunale di Roma nel 2017 però rilevò la nullità del decreto ingiuntivo, sia per l'incompetenza del Tribunale di Roma a demanarlo, quanto per la mancanza stessa dei contratti di fornitura. La società impugnò la sentenza di primo grado chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. La Corte d'Appello di Roma ha giudicato l'appello infondato perché i contratti prodotti dalla società sono solo proposte di attivare la fornitura da parte del Comune di Capodorlando. Manca l'accettazione scritta di Palazzo Europa, per questo, reggettato l'appello, la sentenza impugnata è stata confermata. E questa l'ennesima affermazione per il Comune di Capodorlando e per l'Avvocato Natale Bonfiglio, la cui difesa da giugno scorso a oggi si è rivelata vincente, oltre per la vicenda di cui abbiamo parlato qui, anche in altre tre in cui sono stati revocati i decreti ingiuntivi rispettivamente per 87.000 euro, 615.000 euro e 503.000 euro, somme che il Comune non dovrà pertanto pagare. In totale, da giugno a oggi, oltre un milione e mezzo di euro.